Alloggi anche per divorziati e separati. Va in questa direzione la scelta del comune di Sulmona, che a breve incontrerà il Ministero delle Economie e delle Finanze, per definire nuovi target, per assegnare 59 alloggi e contratto di quartiere a canone concordato. Dopo anni di burocrazia e verifiche sono stati assegnati la scorsa estate i primi 5 alloggi, che sono andati a 5 giovani coppie della città. Un lungo iter che ha visto prima la conclusione delle operazioni di arredamento, poi la verifica del possesso dei requisiti previsti nel bando e la successiva sottoscrizione dei contratti. Per gli altri 59 alloggi si attende l'indizione di un nuovo avviso pubblico, che deve tener conto, delle indicazioni ministeriali per definire nuovi target, onde evitare di scoraggiare gli utenti e la presentazione della domanda, come avvenne nel 2016, quando una categoria fu riservata agli studenti che non hanno risposto. La proposta del comune è quella di puntare anche sulle coppie separate e divorziate. I lavori di costruzione del palazzo di Viale delle Metamorfosi sono terminati dopo 15 anni. L'importo di 5 milioni sui 9 totali per sistemare anche verde pubblico e aree urbane è servito a costruire nell'area libera di Viale delle Metamorfosi da 3.000 metri, che sbuca sulla statale nei pressi della palazzina Ater, 64 alloggi di ultima generazione a cannone concordato, cioè da un minimo di 220 euro al mese a un massimo di 3,40. 8 per anziani a piano terra, di cui 4 da 64 metri quadri e 4 da 43 con accessi per i diversamente abili, 16 per giovani coppie, 16 per anziani, 24 per studenti che non risposero. Da qui la necessità di individuare nuovi target per assegnare 59 case che restano vuote. Nel progetto ci sono anche un poliambulatorio, una sala ritrovo per anziani e sale studio.